Jacko Band Co. Twin Turbo Furious, un capolavoro di complessità e innovazione. Il Twin Turbo Furious è un doppio turbion volante sequenziale ad alta velocità a tre assi, ripetizione minuti decimale e cronografo monopulsante con indicazione del differenziale temporale di riferimento e indicazione della riserva di carica. I due turbion a triplo asse sono collegati da un differenziale, che calcola la media delle velocità di ciascun oscillatore. Questo, in teoria, dovrebbe produrre una singola velocità media più stabile di quella di ciascun oscillatore isolato. I turbion, dal più interno al più esterno, ruotano una volta ogni 24 secondi, 8 secondi e 30 secondi. Per la maggior parte di noi la complicazione più misteriosa sarà la cosiddetta differenza temporale di riferimento. Questa è una funzione del cronografo. La differenza temporale di riferimento consente di determinare se un periodo di tempo trascorso è maggiore o minore di un tempo di riferimento scelto. Si utilizza la corona per impostare l'ora di riferimento, che viene visualizzata con numeri arabi nella posizione delle 6 sul quadrante. Noterai che lo 0 sul pitboard è a 10 secondi. Quando fermerai il cronografo, quindi, potrai immediatamente leggere quanti secondi più veloce o più lento rispetto al tempo di riferimento è stato il periodo di tempo trascorso. Una ripetizione minuti decimale è una variante della ripetizione tradizionale, in cui le ore, i quarti d'ora e i minuti suonano successivamente. Il ripetitore decimale è un'invenzione moderna, in cui suonano le ore, poi il numero di intervalli di 10 minuti dopo l'ora e poi i minuti. La compiecazione è stata inventata da Kari Vutilainen, il cui orologio da polso con ripetizione decimale ha debuttato nel 2005. Per evitare danni al funzionamento del ripetitore, l'impostazione dell'orario viene bloccata se è in corso la sequenza dei rintocchi. L'avvolgimento di 50 ore di riserva di carica nell'orologio avviene tramite una manovella pieghevole, il cui funzionamento ricorda molto le leve di riavvolgimento della pellicola inserite nelle manopole delle cineprese. Il movimento è più o meno su tre livelli, in alto abbiamo i martelletti per il meccanismo di ripetizione, al centro abbiamo gli ingranaggi del cronografo, la ruota a colonne e le leve, e in basso abbiamo le ruote motrici finemente scheletrate per i tourbillon gemelli a triplo asse e i tourbillon stessi.